Saldi in Europa per gli Academy Torino FC. Teodoro Coppola dirigerà le operazioni adesso di, mi verrebbe da dire, di dei, ma è semplicemente un'opening, non è uno sbarco in Normandia, ma è comunque uno sbarco in un pianeta nuovo per noi, è nuovo per voi, ai quali appunto a voi chiedo di osservare attentamente che cosa vorrà dire poi per i vostri bambini, seppur oggi rappresentato in una forma embrionale, cioè giusto come la presentazione, ma che cosa vorrà dire in futuro far parte di questo sordalizio e quindi di poter accedere al sapere di qualcuno che fa di professione quello che io avrei voluto fare, ma insomma non ero bravo tanto. Buongiorno a tutti, la pausa più forte poi la farete ai vostri figli che fanno parte di un progetto vero, vero educativo, l'abbiamo già detto in conferenza qualche mese fa. Oggi è il battesimo ufficiale perché ho un Open Day in questo sistema, perché crea quel senso di appartenenza, perciò al di là delle mini e le miniature delle sedute rappresenta 200 bambini sul campo, a Bari erano 333 e c'è il piacere di vedere tutta la famiglia all'opera. Ecco questo è un po' l'emblema che noi a Torino usiamo anche nella nostra partenza ufficiale dell'attività di base. Perciò questo è il sistema, radionare le famiglie, radionare tutti i tesserati e sarà secondo me, come funziona da noi da anni, un momento così suggestivo e indelebile di vedere 200 bambini che lavorano contemporaneamente girando delle stazioni, esplorando delle attività che poi sarà identificata durante la settimana su quello che sarà una classica seduta di organizzazione tecnica di organizzazione tecnica, un'attività che si assoluta di parte dell'attività di base, e invece di essere una classica, un'attività che non mi viene da dire questa All'area, non ci credo, siamo ancora più, siamo ancora più, siamo ancora più, siamo ancora più. Siete pronti? Siete pronti? Sì! Siete pronti? Sì! Siete pronti? Sì! Siete pronti? Si! Siete pronti? No, guardiamolo, facciamo il quadro! Grazie. Grazie. Grazie.